Quante pagine si possono studiare in solo un'ora? Voglio darti una risposta sincera e non voglio assolutamente prenderti in giro con aspettative che sono irraggiungibili e quindi andiamo a eliminare un po' di fuffa e di stupidaggini che spesso sento dire su quello che si può davvero studiare in soli 60 minuti. Partiamo subito con dei ragionamenti molto pratici su quello che puoi fare davvero e poi ti do anche delle dritte su come puoi ottimizzare proprio la qualità dello studio. In un certo senso studi meglio anche studiando meno. Comunque, prima di iniziare a parlare dell'argomento del video di oggi ti ricordo che tutto quello che vedi affrontato non solo nel video di oggi ma in generale nel mio canale è spiegato in modo molto più approfondito con contenuti esclusivi, spiegazioni in prima persona, esempi pratici, dimostrazioni all'interno del metodo di studio di QE. È presente nel videocorso che puoi trovare attraverso il link in descrizione per farti capire è il metodo che ho utilizzato io in prima persona e ho creato anche grazie alla mia formazione da psicolo. Comunque, ti lascio il link se ti può interessare. Ora vediamo subito dopo la sigla quello che riguarda quante pagine si possono studiare in solo un'ora. Quindi cosa puoi aspettarti in un'ora di studio fatta bene? Allora, non parliamo del minimo perché non c'è un minimo di pagine che puoi studiare. Zero. Non facciamo niente e non studiamo. Quindi non ha senso, quella è una stupidaggine. Parliamo del massimo di pagine che puoi studiare. Quindi quanto si può davvero studiare in un'ora? Io ho fatto tanti video al riguardo. Ora facciamo una sorta di riassunto. Vai a studiare un massimo di 10 fino a 20 pagine in un'ora. Ti spiego matematicamente questo come può avvenire. Non sto dicendo che è facilissimo e semplicissimo. 20 pagine in un'ora sono tantissime. Io ti direi di studiare 20 pagine in un'intera giornata in un certo senso. Ma comunque si può fare anche in un'ora se hai poco tempo a disposizione. Ti faccio un esempio con 10 pagine così con il numero divenne ancora più semplice. 10 pagine in un'ora corrispondono a una pagina ogni 6 minuti. Quindi questo è semplicissimo. Però mi rendo conto che studiare un'ora intera con la concentrazione al massimo è difficile, per non dire impossibile. Quindi che cosa ti consiglio di fare? Questi 6 minuti che dedichi a una pagina, dividili in 5 minuti di studio. In 5 minuti studi una pagina. E un minuto di pausa. Se ripeti questo per 10 volte in totale, avrai studiato quelle 10 pagine andando a 5-6 minuti alla volta. Quindi questa è la matematica alla base. Il ragionamento è molto molto semplice, puoi capirlo anche da sola, ma l'abbiamo fatto insieme in questo momento. Quello che però voglio dirti, anche per eliminare stupidaggini e fuffa che sento dire in giro, è il fatto che non è sempre possibile studiare a questo ritmo. E in un certo senso, voglio anche rassicurarti, non c'è nemmeno bisogno. Non è sempre possibile perché ci sono tanti casi, adesso te ne voglio parlare, per cui non possiamo assolutamente tenere questo ritmo di una pagina studiata in 5 minuti. Ci sono pagine che per essere studiate hanno bisogno di mezz'ora di massima attenzione. Però non è consigliabile, perché se puoi studiare in 3 ore, per esempio, la stessa quantità di pagine, andando con più calma, facendo più pause, anche pause un pochettino più lunghe, mangi qualcosa, ti distrai ed è tutto normalissimo quando studiamo, allora perché costringere tutto in solo un'ora? Tanto vale prendersi un po' di tempo in più e stare un po' più rilassati. Quindi questo è il motivo per cui non c'è sempre bisogno di concentrare tutto lo sforzo in un'ora. Ma in ogni caso, talvolta, come dicevo prima, non è possibile. E ti spiego perché. Numero 1. Il materiale è troppo, troppo difficile. Ci sono materie, a prescindere da quale è la facoltà che hai scelto, il corso di laurea, non mi interessa. La cosa importante è capire che certe informazioni sono difficili, sia da leggere che da comprendere, perché ci sono termini tecnici, strani passaggi, dobbiamo ricordare delle informazioni, per non parlare poi di tutti quei casi in cui si aggiungono schemi, mappe, grafici, formule, collegamenti, tabelle, cose che non ricordiamo, termini difficilissimi. Quindi ci sono casi in cui tenere il ritmo di una pagina in 5 minuti è del tutto impossibile. E quindi per questo ti consiglio di studiare sempre con abbondante anticipo e con il tempo programmato per non avere troppo stress mentre studi. Ovviamente potresti dirmi, ma io come me ne rendo conto se ancora devo studiare, se posso o meno tenere questo ritmo di 10, 15, 20 pagine in un'ora oppure mi conviene avere più tempo? Se proprio vuoi scegliere, io ti consiglio sempre di mantenere più tempo per lo studio, ma se proprio vuoi scegliere, guarda alla densità delle informazioni. In che senso? I libri sono tutti più o meno uguali come formato, ma ci sono libri più grandi in cui entrano molte più parole con il testo piccolino e tantissime righe. Già lì vediamo che le informazioni sono molto molto dense e se confrontiamo per esempio con libricini, magari monografici per approfondire gli argomenti, in cui le parole sono scritte in modo molto più largo, ci sono meno righe e tutte in formato più stretto, allora in quel caso studiare una pagina in 5 minuti è facilissimo. Possiamo studiare anche più di una pagina in 5 minuti. Quindi guarda la densità delle informazioni per avere un'idea in generale. Poi se sono difficili da studiare lo sappiamo solo in un corso d'opera. Quindi questo era quello che ti volevo proporre per farti capire cosa puoi aspettarti di studio in termini di pagine in un'ora. Quindi non ti voglio prendere in giro, si può fare, ti ho spiegato come, ti ho spiegato anche quando non dovresti farlo e in alcuni casi perché è impossibile farlo. Quindi hai tutti gli strumenti per poterti regolare. Ma se nonostante questo dovessi avere dei dubbi, delle domande, dei chiarimenti, qualunque cosa fammi sapere nella sezione dei commenti o attraverso i contatti che trovi in descrizione. Sempre in descrizione trovi il link per il metodo di studio di QE e quindi io comunque ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirò domani.